La mattina che gli gira e ci dice, annatevene tutti a fanculo. Noi che fiamo? Zitti, zitti, ci amiamo. Beh, magari a te te fanno un piacere da niente. Fammi andare, va, sennò arrivo tardi. Ciao, un bacione. Ah, Lucre, grazie di coro. De niente, figurati. Ciao e salutami il pupo. Ah, se io così... Sto gran figlio della mignotta, proprio a me vieni a portar via il pane. Va, te ne ringrazio Dio se l'inche denuncio, che sei un poro disgraziato come me. Ma non c'è prova più, sa, che sennò la prossima volta te li stacco, li coglioni, brutto figlio di puttana. Te faccio diventare una voce bianca, così vai a cantare alla cappella Sistina. Es mamma, dai, es mamma. Chi te credi di esse, ah, il cacone. Tanto buco, ci volevo con lui. Se poi si rompe l'ossa del collo. Ah, Gesù Cristo mio, se ce riusciva ero rovinata. Puro i sordi della cambiale c'erano. Madonna mia, stasera ce non c'ero. Cacchiamo. E' bella, cacchiamo. Tutti giunque. E' bella, cacchiamo. Ciao. Dai, metti le cacchiamo. Riferisco, madre, com'è stato il pupo, buono? Oh, Maria, non mi devi baciare l'anello. Non sono mica un cardinale. E poi non mi chiamare madre, ma sorella, che non sono la superiore a io. Oh, lascia stare, Maria, non è il caso. Beh, è che chiamare la sorella mi fa un certo effetto. Sa, a me mi piacerebbe tanto avere una sorella come lei, così buona e così per bene. Ah, ecco il pupo che arriva. Quanto è bello, pura me. C'ha due occhi che sembrano due lampiù. E poi è tanto dolce. Michelino! Michelino! Mamma! Che bello de' mamma. Fatevi te. Ma sta tutto sudato. Cos'è te pia, febbre? Sono stata a correre fino adesso. Lo fai il gelato? Eh sì, c'ho una sede. Vieni, mamma. Riferisco, madre. Ciao, suor Pierini. Ciao. Mamma. Ma che noi siamo, signori? Beh, e ma perché mi fai sta domanda, Michelino? Perché oggi un ragazzino mi ha detto che solo i signori mangiano al ristorante. Ma che vede? E io e te ci hanno mandato i giorni. Vabbè, non cominci a montarte la testa, è perché non siamo signori. È che io faccio un lavoro personale a zio Franco, una cosa che lui non può affidare a nessun altro. In cambio ci dà il pranzo tutti i giorni. E poi, senti, non sto a fare tante domande. Su, mangi il gelato e cammine.